Musica Marsala, la polizia di stato, arresta l'autore della rapina in casa di un'anziana donna. Guardie mediche turistiche e resort irregolari, multe e denunce. Nubifraggio a Trapani, il sindaco chiede stato di calamità naturale per i tanti danni. Angiologi italiani a confronto a Castelvetrano. Ben ritrovati cari telespettatori ad una nuova edizione del Tg8. Informazione sul canale 117 di Tele8 e in streaming sulle nostre pagine social. Apriamo subito con la cronaca. A Marsala la polizia di stato arresta l'autore della rapina ad un'anziana signora. Individuato e arrestato dalla polizia il responsabile di una rapina messa a segno a Marsala. Nel mirino un'anziana donna aggredita nella sua abitazione. La vittima, trasportata al pronto soccorso dopo l'allarme dato dal figlio, è stata ricoverata con prognosi riservata. In carcere è finito Giancarlo Maltese, raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Sarebbe stato lui a fare irruzione nell'abitazione della donna, ad incastrarlo le immagini estrapolate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che lo hanno immortalato mentre entrava e usciva dalla casa della malcapitata. L'accorgimento adottato dal presunto rapinatore di disfarsi degli abiti che indossava al momento dell'aggressione non è servito ad evitargli il carcere. Gli abiti infatti sono stati ritrovati e sequestrati dai poliziotti. A Paceco un 17enne ruba 400 euro a degli operai che lavoravano all'interno di una scuola. Ascoltiamo i dettagli. I carabinieri della stazione di Paceco hanno denunciato un 17enne trapanese per il reato di furto aggravato. Dalle indagini espletate dai militari operanti a seguito di denuncia di furto è emerso che il minore approfittando di una finestra dimenticata semiaperta si sarebbe introdotto all'interno dei locali di una scuola e si sarebbe impossessato di circa 400 euro contenuti in due marsupi di operai impiegati per eseguire alcuni lavori tecnici. Nella stessa giornata è stato tratto in arresto dallo stesso reparto un pregiudicato di 42 anni presunto responsabile di un furto su un'autovettura. L'uomo, percettore del reddito di cittadinanza, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri mentre frugava all'interno di un'auto in sosta in pieno giorno. I carabinieri, dopo aver ricevuto il giorno prima ben quattro denunce di furto su auto hanno messo in atto un servizio dedicato con personale in abiti civili per le vie del centro notando il 42enne camminare tra le auto, guardare all'interno e provare ad aprire i mezzi nella speranza che fossero stati dimenticati aperti. Al momento dell'arresto è stato inoltre trovato in possesso di una poste pay denunciata, rubata, dalla quale l'arrestato avrebbe prelevato la somma di 600 euro che è stata riconsegnata all'avente diritto. A seguito della convalida dell'arresto, l'uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione radiomobile della compagnia di Marsana hanno denunciato un soggetto romeno classe 91 per il reato di istigazione alla corruzione. Il trentenne, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sottoposto a normale controllo presso la propria abitazione, si presentava particolarmente infastidito dalle numerose verifiche che i carabinieri eseguivano per accertare la sua presenza in casa. L'uomo, cercando di risolvere questa situazione, ha ben pensato di prendere dalla tasca dei pantaloni 35 euro in contanti al fine di convincere i carabinieri a non sottoporlo più a questi continui controlli. I militari dell'arma lo deferivano all'autorità giudiziaria e sequestravano le banconote offerte loro poco prima. E ci spostiamo invece sulle guardie mediche turistiche, resort irregolari, sono scattate numerose multe e denunce. Due guardie mediche turistiche irregolari, sei comunità alloggio per anziani multate, otto villaggi turistici e resort sanzionati. Sono alcuni numeri del bilancio dell'estate dei controlli dei carabinieri del NAS eseguiti nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento. I militari hanno ispezionato decine di stabilimenti balneari, agriturismo, esercizi di ristorazione, nonché comunità alloggio per anziani, farmacie, laboratori di analisi e presidi sanitari di continuità assistenziale turistica, riscontrando 12 violazioni penali e 29 infrazioni amministrative, per complessivi 22 mila euro circa, segnalando 29 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie, nonché posto sotto sequestro prodotti alimentari per circa 210 kg, per un valore complessivo di circa 6.100 euro, e hanno altresì proceduto alla chiusura o sequestro di 5 strutture, fra cui uno studio di estetista senza autorizzazione. Fra le infrazioni riscontrate, si legge nella nota dei NAS, ci sono l'assenza di tracciabilità della provenienza degli alimenti o il deposito di alimenti in cattivo stato di conservazione, il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene o delle procedure di autocontrollo, l'assenza o il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, l'ampliamento senza autorizzazione della capacità ricettiva delle strutture per anziani. Andiamo sulle news dalla provincia, sembra vedere la fine dell'odissea che i docenti in attesa di supplenza nelle scuole trapanesi hanno vissuto sino ad oggi. La rettifica era già attesa dalla prima settimana di settembre, o almeno così avevano fatto sapere dall'ufficio scolastico regionale di Trapani guidato da Antonella Vaccara. Successivamente, vista l'attesa ma anche l'urgenza di risolvere la questione, le sigle sindacali CISL Scuola, Wille Scuola, SNALS, CONFALS, GILDA UNS e ANIEF Trapani hanno incontrato la dirigente dell'ambito territoriale, evidenziando i numerosi errori riscontrati nelle operazioni e la necessità di procedere alla correzione per ripristinare la legittimità. Oggi, 29 settembre, sarà la giornata decisiva, anche se la scuola è iniziata già da tre settimane, per cercare di risolvere la problematica in merito alle supplenze e alle nomine dei docenti in provincia di Trapani. Parliamo di salute, l'ASP di Trapani chiarisce che il virus zanzare su cavalli, cane, pollaia, marsala sono sintomi di inallevamento di alcamo. L'ASP di Trapani chiarisce con una nota la situazione relativa ai casi di virus Western Isles sul territorio. Precisazioni doverose, soprattutto sulla specie di animali colpiti dal cosiddetto virus delle zanzare. La sorveglianza epidemiologica sugli allevamenti domestici nel territorio di Marsala e le relative analisi dell'Istituto Zoo Profilattico di Palermo hanno riscontrato la presenza di positività anticorpale al virus Western Isles su più animali. Al momento due cavalli, un cane domestico e un avicolo rurale, scrive l'azienda sanitaria provinciale. I campioni, così come previsto dalle linee guida, saranno sottoposti a ulteriore conferma presso il laboratorio di riferimento nazionale. Solo dopo potrà essere confermata la presenza di un focolaio epidemico nella zona del Marsalese, già sotto sorveglianza. Non è ancora noto l'esito delle indagini epistemologiche sulle zanzare catturate in tale zona del focolaio. Si tratta di esami particolari e approfonditi, visto che questi insetti sono il veicolo di diffusione del virus. Ma l'ASP conferma che i corrispondenti servizi di prevenzione umana e veterinaria sono già attivi e stanno procedendo alle previste indagini epidemiologiche e sierologiche con il coordinamento dell'Istituto Zooprofilattico. Nel frattempo, in un'altra zona della nostra provincia, in un piccolo allevamento equino nel distretto di Alcamo, sono comparsi lievi sintomi di malattia sospetta per West Niles in un cavallo che pertanto è stato sottoposto ad accertamenti sierologici e nel contempo, come prevede la norma in questi casi, è stato dichiarato lo stato di sospetto focolaio epidemico nell'allevamento in questione, dice infine la nota dell'autorità sanitaria provinciale. Parliamo di infrastrutture. A causa dei bassi fondali della banchina dello Scalo Nuovo a Marettimo hanno preso il via i lavori di dragaggio e pulizia della zona portuale, finalizzati al ripristino della navigabilità in sicurezza, anche di mezzi veloci con un maggiore pescaggio. Condizioni meteomarine permettendoci vorranno circa 10 giorni di lavoro nelle ore notturne. Il sindaco del comune di Favignana, Isole Ega di Francesco Forgione, annuncia che è una bella notizia per la nostra comunità. Grazie ad un finanziamento di 120 mila euro stanziato dalla regione siciliana, si sta intervenendo per porre temporaneamente il rimedio ad un problema che, soprattutto nella stagione estiva, ha causato disagi di ormeggi ai mezzi della compagnia di navigazione. A Mazzara, invece, una serie di interventi di scerbatura del territorio cittadino, di eliminazione del terriccio stradale causato dalle piogge e di controllo e pulitura delle caditoie ostruite dai detriti del maltempo dei giorni scorsi, è stata intensificata su direttiva dell'assessore ai lavori pubblici, Vito Torrente, e interesserà tutto il territorio. Il piano straordinario di scerbature e pulizia si avvarrà della collaborazione, oltre che dell'ufficio tecnico, anche della Polizia Municipale, per la posizione ed il controllo dei segnali di divieto di sosta temporanei. In accordo con il raggruppamento di imprese che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città, inoltre saranno effettuati i corretti conferimenti del materiale. Ci spostiamo sulla vicenda appunto del nubifraggio che ha colpito tutta la provincia di Trapani con intensi danni ed a proposito il sindaco di Trapani, Tranchida, chiede lo stato di calamità naturale per i molti danni che hanno interessato la città di Trapani. Tavolo di crisi oggi a Palazzo D'Alia, Trapani, dopo il nubifraggio che lunedì scorso si è abbattuto sulla città e sul territorio della provincia. Il servizio informativo agrometeorologico siciliano ha certificato che si è trattato di un evento straordinario. I quantitativi di pioggia sono eguagliabili purtroppo alla disastrosa alluvione del 1976, quando morirono anche molte persone, spiegano dall'amministrazione comunale di Trapani, che ha già chiesto alla regione siciliana di dichiarare lo stato di emergenza per calamità naturale. Ho sollecitato il capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, in seguito alla certificazione che abbiamo registrato da parte del servizio meteorologico regionale, che attesta come da erice sia venuta giù una quantità d'acqua che non era mai stata rilevata prima d'ora, dice il sindaco Giacomo Tranchida. Ho chiesto loro di attivarsi per avere immediatamente il riconoscimento della condizione di criticità e di calamità naturale, che è l'unico modo per giungere al risarcimento dei danni per i cittadini, i commercianti, le imprese e per gli enti, compreso il comune, che hanno avuto impianti distrutti da quello che è accaduto. Ciò che è successo è qualcosa di inenarrabile, conclude, c'è una città distrutta. Mi auguro che per Trapani e gli altri comuni danneggiati da questi eventi straordinari vi sia il ristoro da parte dello Stato e della Regione. Sempre a proposito di pioggia, il Dipartimento regionale di protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di rischio, scusate, meteo idrogeologico, idraulico per le prossime 24 ore a partire da oggi. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Trapani, ricompreso nella zona D, il livello di allerta è giallo per possibili precipitazioni. In via precauzionale, l'amministrazione comunale di tutte le città ha attivato il personale di reperibilità e predisposto un piano di protezione civile nel caso di forti piogge e conseguente rischio allagamenti, con particolare riguardo all'attivazione delle pompe di sollevamento e qualora occorra all'interdizione al traffico di alcuni tratti viari. Nessun particolare allarme, quindi in senso allarmistico, ma la giusta attenzione è qualora dovessero verificarsi, come nei giorni scorsi, piogge intense. Ci spostiamo a Mazzara, dove è stato pubblicato, sull'albo pretorio online del portale istituzionale, la determinazione dirigenziale è la gradatoria delle richieste ammesse per l'assegnazione dei nuovi loculi cimiteriali, costruiti nei reparti 2 e 6 del vecchio cimitero. Ne dà notizia il responsabile dei servizi cimiteriali, dottor Antonino Ingargiola. Dal 1 al 30 giugno scorso, i giorni di scadenza dell'avviso pubblico, sono pervenute al Comune 212 domande di concessione. Di queste, 40 non sono state ammesse per mancanza dei requisiti indicati nel bando. Le 172 domande ammesse consentiranno l'assegnazione, in concessione cinquantennale, di 314 loculi cimiteriali, in quanto per ogni domanda, a seconda delle priorità indicate nello stesso avviso, era prevista la possibilità di richiedere più loculi. Ma sempre a Mazzara del Vallo, una delegazione del Comune, è in visita al Parlamento europeo, per denunciare le difficoltà del settore, del caro Galosolio alla questione dei bacini condivisi nel Mediterraneo e ai rapporti con i paesi nordafricani per quanto riguarda il settore della pesca. Su iniziativa dell'eurodeputato Pietro Bartolo, una delegazione composta da pescatori, armatori, commercianti e amministratori locali di Mazzara del Vallo, guidata dal sindaco Salvatore Quinci, è stata in visita al Parlamento europeo, per rilanciare i problemi che attanagliano il settore, dal caro gasolio ai rapporti con i paesi nordafricani nei bacini condivisi nel Mediterraneo. Questioni approfondite a maggio scorso dalla Commissione Pesca durante una missione in Sicilia. La delegazione è arrivata a Bruxelles ieri e oggi ha partecipato ad un tavolo tecnico alla presenza di Claudio Quaranta, capo unità della Commissione Pesca al Parlamento europeo e di Filippo Segato, funzionario della Commissione Pesca. A seguire, in sala SPAC, si è svolta la proiezione del docufilm 108 sulla vicenda del peschereccio Medinea, sequestrato insieme all'equipaggio per 108 giorni dalle autorità libiche. Per la delegazione, oltre al sindaco, erano presenti gli assessori Michele Reina, Germana Bagnato, Gianfranco Casale, il consulente per la pesca dell'amministrazione comunale Gilberto Ferrari, i consiglieri comunali Isidonia Giacalone, Arianna D'Alfio, Massimo Giardina, Gioacchino Emmola, Giuseppe Palermo, per il distretto pesca Francesco Foraci e vari operatori del settore. Ci giunge nota da parte dell'ufficio tecnico del comune di Mazzara del Vallo che rende noto che per interventi urgenti e programmati di manutenzione straordinaria degli impianti dei pozzi idrici di Ramisella nella giornata di lunedì 3 ottobre ed in parte nella giornata di martedì 4 ottobre sarà sospeso il funzionamento dei pozzi con conseguente interruzione dell'erogazione idrica. Pertanto, scusandosi per il disagio purtroppo necessario per consentire lavori urgenti e non rinviabili già programmati, si invitano i residenti delle zone di Trasmazzaro e Tonnarella ad accumulare acqua nei giorni precedenti ai lavori in modo da attenuare i possibili disagi derivanti dagli stessi lavori. L'assessorato ai servizi demografici del comune di Marsala diretto da Valentina Piraino rende noto che sono state attivate le fasi propedeutiche al censimento permanente della popolazione e delle abilitazioni 2022. L'Istat tramite i comuni rileverà anche nel territorio marsalese le principali caratteristiche della popolazione di Morante nonché le sue condizioni sociali ed economiche. Va sottolineato che non tutte le famiglie saranno coinvolte ma soltanto quelle selezionate direttamente dall'Istituto Nazionale di Statistica che hanno già ricevuto le necessarie istruzioni. L'Ufficio Comunale di Censimento informa che a partire dal prossimo 13 ottobre fino al 17 novembre gli incaricati del comune riconoscibili dall'apposito tesserino identificativo avvieranno le rilevazioni presso i domicili selezionati. Ove ci fossero delle difficoltà i rilevatori potranno invitare le famiglie a presentarsi al Centro Comunale di Rivelazioni di Via Garibaldi. E chiudiamo con un importante evento che si svolgerà a Castelvetrano presso l'Altea Palace Hotel il primo ottobre dove si riuniranno gli angiologi italiani che torneranno a confrontarsi dopo due anni. Finita l'emergenza Covid infatti torna il congresso regionale del SIAPAV Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare giunta all'edizione numero 42. Gli angiologi metteranno l'accento nel corso dei lavori soprattutto sul fatto che la chiusura ormai 20 anni fa delle uniche due scuole di specializzazione italiane di Catania e Cagliari rischia di far scomparire la specializzazione di angiologia in Italia. Ed era questa l'ultima notizia del nostro Tg odierno vi diamo appuntamento ad una prossima edizione del Tg8 Informazione sul nostro canale 117 del Digitale Terrestre e in streaming sulle nostre pagine social. Grazie a tutti. Grazie a tutti.